Per ora il temuto aumento dei pedaggi autostradali nei tratti delle autostrade a 24 e a 25 gestiti da strada dei parchi non è scattato. Il 28 febbraio infatti è terminata la sospensione degli aumenti dei pedaggi, decisione presa autonomamente da strada dei parchi che ne ha facoltà essendo la concessionaria autostradale alla fine di dicembre per frenare l'aumento stabilito dal Ministero dei Trasporti. Tutto resta così com'è perché il Governo con un decreto interministeriale di Ministero dei Trasporti e Ministero delle Finanze all'indomani della decisione di strada dei parchi ha stabilito che la sospensione durerà fino a giugno. Un decreto interministeriale misterioso a dire il vero del quale non c'è traccia sui siti dei due ministeri ma che i sindaci hanno ottenuto con un lavoro di ricerca durato settimane. Nel testo del decreto all'ultima pagina si legge che l'aggiornamento tariffario applicabile dal 1 gennaio 2019 risulta sospeso sino alla data del 30 giugno 2019 dunque confermando l'aumento e che le tariffe applicabili alla concessionaria strada dei parchi S.P.A. sino ad allora risultano invariate e corrispondenti a quelle applicate alla data del 31 dicembre 2017 nelle more del perfezionamento della procedura di revisione del piano economico-finanziario. Piano è bene ricordare che come sottolinea la concessionaria autostradale non è ancora stato affrontato dal Governo nonostante le sollecitazioni. La sindaca di Carzoli, Ivelia Nazzarro, avvocata, portavoce del gruppo dei sindaci laziali abruzzesi insommossa contro il caro pedaggi da oltre un anno sottolinea come la decisione del MIT e del MEF di sospendere gli aumenti sia arbitraria, stabilita con un decreto non condiviso e non concordato con la concessionaria autostradale. Un passaggio insomma che non è contemplato nella convenzione tra società e governo italiano e che per questo potrebbe aprire la possibilità di un ricorso ai giudici. Se strada dei parchi decidesse di ricorrere alla giustizia si potrebbe tornare sin da subito a pagare gli aumenti. Insomma a rimetterci sarebbero i cittadini. E di fronte all'immobilismo del Governo e al silenzio di Toninelli che da mesi non risponde alle lettere dei primi cittadini, questi ultimi alzano il tiro e con un atto di determinazione per non dire di forza fanno il primo passo verso la costituzione di quel tavolo istituzionale richiesto da 15 mesi e convocano per il primo incontro del costituendo tavolo per il 14 marzo nella sala consigliare del comune di Carsoli il ministro dei trasporti Toninelli, la concessionaria a strada dei parchi, i due presidenti di regione Nicola Zingaretti per il Lazio e Marco Marsilio per l'Abruzzo.